Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'attenzione. Ecco, siamo alla quattordicesima puntata della nostra rubrica tecnica di approfondimento e grazie anche per le numerose richieste che sono pervenute di approfondimento dopo la tredicesima e quindi la precedente puntata, in quanto ho capito che il tema intelligenza artificiale è molto attuale e anche crea molta curiosità. Bene, l'intelligenza artificiale come accennavo anche la precedente puntata è un qualcosa che noi vediamo come astratto perché è una funzione generata da macchine ma in realtà l'intelligenza artificiale dobbiamo porla come esempio alla fusione e quindi alla coesione di più persone che hanno ognuna una propria intelligenza e assieme, messe assieme, creano un qualcosa di più performante, di più efficiente. Nel senso che quando c'è un problema da affrontare se l'esperienza del singolo permette di affrontarlo e risolverlo è a posto ma se è un problema di natura diversa e generalmente più articolato dove è richiesta la presenza di più persone a quel punto viene fatta una commissione tecnica di valutazione la quale, raggruppando più persone per singole specialità diventa un elemento appunto di valutazione di quel problema e poi ne esce una soluzione con l'apporto di ciascun membro di quella commissione. Questo cosa significa? che viene utilizzata l'intelligenza di ogni singola persona messa assieme per ottenere un risultato che è quello di risolvere quel determinato problema. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale è come un assieme di persone delle quali ognuno dà il proprio supporto, il proprio apporto e quindi diventa un meccanismo dinamico diventa un meccanismo che a seguito di aver ricevuto la ricezione di input di vario genere fa un'elaborazione attraverso i famosi algoritmi e ne trae appunto, ne esce una soluzione soluzione che è l'attivazione di comandi e l'avviare determinate chiamate in automatico su numeri telefonici o che e quindi risolvere il problema secondo una logica. L'intelligenza artificiale in più ha quella logica di autoapprendimento che vuol dire che in base al cumulo dei dati che vengono memorizzati nel tempo il sistema, quindi l'algoritmo che lavora all'interno del sistema sulla base dei dati rilevati riesce a elaborarli quindi a farli camminare e ne trae delle conclusioni in automatico. E' come dire, quando andiamo a visitare un sito internet cerchiamo un'automobile particolare per esempio uno cerca una Fiat Punto per fare un esempio bene, dopo due o tre giorni magari stiamo navigando in internet in un sito di informazioni politiche piuttosto che della testata di un giornale o che altro e a un certo punto compare la Fiat Punto ma cosa c'entra la Fiat Punto adesso che però è una Fiat Punto, quindi è quella che avevo cercato due o tre giorni fa e qui in realtà il sistema internet ma in generale tutti ormai i software che sono connessi a determinati motori di ricerca fanno sì che quel marketing automatico che fa comparire la macchina che io avevo cercato mi tiene aggiornato e mi tiene l'attenzione alta sul fatto che quella vettura sia disponibile quanto costa e dove ovviamente la posso trovare questo per farvi capire cosa? che l'autoapprendimento è un qualcosa che lavora in autonomia e che riesce a dare dei risultati in questo caso di marketing nel caso di un'azienda di azioni ben definite funzione di dati di ingresso che sono arrivati alla piattaforma bene, in particolare faccio un esempio pratico se noi abbiamo un'azienda una grande azienda che è provvista di un posto di guardia dove abbiamo una control room e quindi una serie di monitor dove ci sono sia i sistemi tv circuito chiuso sia gli allarmi tecnologici sia gli allarmi legati alla sicurezza quindi intrusione, allarme incendi o che altro normalmente troviamo una persona o due al massimo che governano questa sala di controllo chiaramente se tutti i sistemi sono a sé stanti la persona ha l'obbligo di attivarsi a seguito di una tale informazione e prendere una decisione per esempio se ho l'allarme incendio è di chiamare i vigili del fuoco o di chiamare la squadra interna antincendio che vada a fare l'intervento in realtà però se quella persona in quel momento è un attimo in bagno premesso che ci sta qualche minuto quindi non è un problema serio ma ammettiamo che oltre ad andare in bagno stia anche male a quel punto non c'è più nessuno che prenda una decisione e quindi l'allarme che arriva non è gestito e può degenerare ora, l'intelligenza artificiale che è una piattaforma che lavora ovviamente su un sistema informatico riesce a memorizzare tutta una serie di informazioni perché viene interfacciata con gli impianti e quindi a seguito di eventi particolari il sistema riesce in autonomia per esempio a chiamare la squadra antincendio riesce ad attivare ulteriori persone che si hanno a conoscenza di questo questo per dare un supporto effettivo all'operatore che magari in quel momento appunto si sente male e non è in grado di mettere in atto delle azioni a sua volta l'operatore se è in condizioni ovviamente fisiche e a posto di tutto se vede una cosa del genere prende di solito e va a vedere cosa è successo perché potrebbe essere anche un falso allarme quindi nel momento in cui prende e va a vedere cosa è successo quel posto lì rimane sguarnito se non ce ne sono due presenti di persone e quindi anche in quel tragitto lì che dal posto di guardia diciamo va sul posto dove è stato generato l'allarme se per esempio è un'allarme anti-intrusione e qualcuno ha generato la posta per dargli una legnata sulla testa a quel punto quello lì cade a terra e nessuno sa più niente e quindi fanno quello che vogliono i malviventi in questo caso ecco l'intelligenza artificiale attraverso un dispositivo che ha in tasca l'operatore se per caso dovesse cadere a terra quindi la classica funzione man down riesce a generare un allarme silenzioso che a sua volta in automatico attiva delle chiamate sulle direttrici predisposte quindi altri colleghi la pubblica sicurezza piuttosto che il direttore generale dello stabilimento che dà un servizio aggiuntivo sapendo che quella persona è in difficoltà può essere una difficoltà perché è inciampato può essere una difficoltà perché qualcuno lo ha aggredito o può essere anche una difficoltà perché a seguito dell'avere ispirato dei fumi dell'incendio che andavo a vedere cos'era è svenuto quindi se uno non interviene in tempi rapidi quella persona lì intanto è il primo che ne trae le conseguenze purtroppo negative ecco detto ciò siccome l'intelligenza artificiale è una parola che dice tutto e dice niente è chiaro che noi la vediamo come virtualizzata come concetto e capiamo che con la parola artificiale abbinata ad intelligenza si tratta di computer ecco attenzione non è da confondere l'intelligenza artificiale della quale sto parlando con un'intelligenza che è diciamo più statica nel senso che è una programmazione per far sempre quello che ad esempio hanno i robot i robot industriali sono macchine che vanno praticamente installate e vanno a sostituire delle persone sulle lavorazioni molto pericolose e le lavorazioni che richiedono uno stress per l'elevata velocità di esecuzione quindi i robot non è che hanno più di tanto un'intelligenza artificiale ma hanno un'intelligenza loro propria che è una sorta appunto di memoria statica da pc che fa fare quelle determinate funzioni che sono sempre quelle quindi in questo caso non partiamo dal concetto di cose molto evolute fra virgolette ecco passate i miei termini a cui sto semplificando molto ma parliamo di allestimenti a bordo macchina per gestire un processo industriale ecco l'intelligenza invece deve essere l'intelligenza artificiale come piattaforma è un qualcosa che risiede in una piattaforma che può essere locale, remota o ibrida ma che di fatto concentra e quindi accorpa tutta una serie di informazioni generate da sottosistemi quindi l'impianto antincendio, l'impianto della tv circuito chiuso gli allarmi dei bordo macchina piuttosto che l'antiintrusione piuttosto che l'autorizzazione al controllo accessi delle torre di badge di tale reparto o di tale zona e quindi è praticamente una piattaforma che serve ad accompagnare e quindi ad assistere il lavoro degli addetti ai lavori ma soprattutto anche a sollevarli di certe responsabilità se vogliamo così chiamarle di fronte ad azioni che a quel punto il sistema di intelligenza artificiale riesce a prendere in autonomia ovviamente sempre prendiamo con le pinze perché in autonomia prende e fa quello che comunque gli è stato messo come linea guida nel software di gestione, questo è ovvio però rispetto a un software più statico che fa 2 più 2 e basta l'intelligenza artificiale oltre che fare il 2 più 2 fa tutta un'altra serie di azioni che sono determinate dall'autoapprendimento e quindi da quello che nel tempo lei immagasina come segnali e come attività delle periferiche ecco, chiaramente nel settore tecnico come il nostro questo tipo di impianti, questo tipo di piattaforme ovviamente hanno un costo e hanno una loro logica se ci sono dei numeri particolari in azienda nelle piccole aziende è quasi impossibile applicare queste tecnologie perché avrebbero un costo sproporzionato rispetto a quello che ne avrebbe di utilità la piccola impresa ciò non toglie che ci sono anche dei livelli intermedi o più bassi di intelligenza artificiale per gestire delle attività di sicurezza che comunque si possono applicare anche ad aziende molto modeste come dimensioni detto questo è chiaro che poi io per Epicenter sono il direttore tecnico e quindi curo i rapporti nelle aziende che abbiamo come colleghi, come professionisti ma io mi occupo da sempre, quindi da 35 anni di progettazione elettrica quindi di ingegnerizzazione di sistemi elettrici distributivi, di illuminazione, di sicurezza, antincendio e quant'altro all'interno di edifici del terziario, dell'industriale turistico, ricettivo e berghiere in particolare ovviamente il domestico quindi l'abitazione è molto molto a margine anche se ho fatto qualche lavoro in abitazione di un certo rilievo ma di fatto cerco di trasferire la mia esperienza nei campi dove può essere utile e soprattutto è necessaria perché in campi dove non serve non ha senso che uno vada a forzare per ottenere risultati che poi non arriverebbero quindi ecco, ricapitolando l'intelligenza artificiale è un tema che io avrei piacere di sviluppare ulteriormente perché appunto ho avuto diverse richieste telefoniche ho avuto tra l'altro uno sviluppo molto positivo chiaramente anche per questo periodo che siamo costretti un po' tutti a rimanere nelle mura domestiche però in ogni caso è un momento di approfondimento un momento culturale, di cultura tecnica che io cerco di espandere e di avere anche come mia formazione personale perché prima di dire le cose bisogna saperle fare e soprattutto bisogna saperle quindi io da tecnico quello che non so non lo faccio e non lo dico ecco, chiaramente come dicevo prima l'applicazione di queste tecnologie ha dei target medio-alti a livello di numeri numeri inteso come numero di dipendenti e numero di persone in azienda per poter giustificare questo tipo di scelte però ripeto, siccome sarà sempre più necessario controllare i processi legati alla sicurezza delle persone alla sicurezza all'interno dello stabilimento piuttosto che per esempio la temperatura corporea io con intelligenza artificiale posso creare un sistema con telecamera all'infrarosso e valutare che se una persona ha già la febbre io non la faccio entrare in azienda oppure la segnalo al responsabile dico attenzione che il dipendente numero 51 per esempio ha la febbre a 38 e quindi sta entrando in azienda con una patologia che non necessariamente non deve essere quella che stiamo purtroppo vedendo oggi con il coronavirus ma può avere una patologia che comunque potrebbe essere negativa in quanto potrebbe anche ridurre la sua attenzione nell'ambito del ruolo che è in azienda questo è solo un esempio quindi per dire se io ho una piattaforma che può implementare in maniera aperta sia segnali tecnologici che vengono generati da impianti sia dare priorità di immagine per esempio sulle telecamere quindi se ho un principio di incendio vado ad accendere in priorità la telecamera di quella zona così già da remoto vedo se c'è fumo se c'è fuoco se ci sono condizioni critiche o se magari è stato un falso allarme oppure io posso telecamera ad immagine presente fare un reset e vedere se riparte che vuol dire che effettivamente c'è il problema quindi faccio lavorare in sicurezza e riesco ad essere molto più tempestivo e inoltre e non da ultimo ho il database di tutti gli eventi quindi oltre ad avere una memoria dinamica ovvero che assume nel tempo i vari eventi quindi riesce anche a discriminare se sono dei falsi allarmi troppo frequenti ma allo stesso tempo riesco ad avere lo storico che mi può garantire nel tempo la non responsabilità di una persona a detti lavori perché con lo storico si dimostra prova e la mano che nel percorso, quindi nel processo aziendale è stato fatto tutto secondo un criterio predefinito bene, se avete piacere ecco ripeto il mio numero di telefono è 327 869 0054 quindi potete chiamarmi se avete bisogno di qualche informazione così fra virgolette al volo o mi fate delle richieste per fare delle ulteriori puntate di approfondimento su temi che vi interessano poi in ogni caso visitate il sito di Epicenter quindi epicenter.srls.com è il sito internet ecco io per questa azienda sono il direttore tecnico quindi curo sia il coordinamento tra i tecnici dell'azienda sia l'interfaccia con l'esterno quindi il primo soprologo di preanalisi lo svolgo io ecco niente e quindi vi auguro un buon proseguimento e niente ci risentiamo la prossima volta grazie a tutti e buon pomeriggio